ciao ragazze ciao a tutti e buon san valentino questo video lo caricherò il giorno dopo san valentino perché appunto lo sto registrando adesso stamattina ci siamo svegliate tardi molto tardi hanno già le 10 e quindi niente scuola e andiamo a fare un girettino spero ho appena caricato il video della torta di san valentino quella che ho fatto io ieri sera comunque ci vogliono veramente dieci minuti a farla e a prova di bambino e andiamo sul cavallo allora prima però devo buttare il patume è perché in macchina dopo la macchina puzza e si 8 gradi e sono le 11 e 33 ho detto che il cancello si chiuda susi e si perché se ne cagnolini escono quindi chiudiamo bene il cancello e voi cosa fate per san valentino programmini noi nessun programmini particolare io appunto ieri sera ho fatto la torta e stasera cucina fede io sono ancora piena di catarro da qui nessuno non mi passa più ok ancora un pochino fatto andiamo a buttare il patume ecco fatto andiamo sul cavallo e non lo so se quello che gira c'è ancora è e susi non si dice lo voglio è se c'è bene se non c'è la pazienza guida 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 ci prendo corri uno tre vai piano piano vuoi quale questa col salmone ottima scelta direi e papà sta leggero no no guarda qua buona buona e ciao che bello il palloncino ti piace eh? eh? dai veda papà ciao 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 bellissima giornata di sole e noi ne approfittiamo per fare qualche giochino in giardino vero amore? pronta? dai vai forte con la bici vai si brava speedy è tornato a casa e guardate cosa mi ha portato stasera cucina a fede e andiamo a curiosare vediamo ho appena messo a letto la susi e adesso inizia il nostro san valentino guardate lo chef Federico cosa ha fatto allora qui abbiamo un cocktail di gamberi con salsa rosa spumante tutto classico rosè questi cosa sono Fede? questo è un bucatini con le sarde e queste cosa sono? quella è uvetta pinoli cipolla le alici scottate le soffrette e le sarde poi c'è il finocchietto che chef che chef questa è un astice insalata con cipolla scottata olive taggiasche e un po' di alici scottate anche loro in soffritto un po' di muro da mettere sopra ora vi dobbiamo salutare ma ci vediamo al prossimo video ciao ragazze un bacione ciao 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 ciao